Ve l'ho promesso, prima della pubblicità, la persona che vi presento adesso, bambina, rovista in un cassetto, trova un registratore con un vecchio messaggio e ritrova in questo modo anche la sua voce, la strada per il successo, eccola qui Silvia Zalemi. Bene arrivata, buonasera Silvia, questa è una frase tua molto bella devo dire, io non sono una cantante perché spero nel successo, ma perché sento il bisogno di tirare fuori me stessa e la mia voce, il successo però è arrivato, è un successo meritatissimo, allora ti chiedo, ma la tua voce che ha un timbro così irriconoscibile, quanto racconta, quanto svela di chi è Silvia? Io penso che la voce sia il primo strumento che l'essere umano impara a suonare. far suonare e quindi racconta un po' tutto di noi, un po' come lo specchio dell'anima, quando siamo tristi non possiamo fingere di essere felici, se sentiamo la voce di una persona ne percepiamo l'angoscia, la gioia, la felicità, la fretta, la voce dice tutto. Cosa dice di te la tua? La mia voce in più forse, nel senso che l'ho dovuta ritirare fuori, quindi ha quella cosina in più del ritrovamento, perché non è una storia lineare quella della mia voce, ha in più la sofferenza di essere stata riacchiappata. Adesso lo spieghiamo al nostro pubblico che significa questo riacchiappare. Anche i capelli tuoi, cortissimi, siamo abituati a questo tuo aspetto, sono un po' un marchio di fabbrica. In realtà sono un po' io prigioniera di questi capelli, perché a 19 anni è stato il colpo di testa, il cambio look, il rendersi originali, a 39 è una necessità, perché sono comodi, perché sono una mamma, quindi ho poco tempo, non riesco a stare 4 ore a settimana dal parrucchiere, invidio chi ha il tempo di farlo, chi lo deve fare, perché magari fa una piega, però ormai ho modo di essere. Volevo salutare la signora che ha il maglione come il mio, quindi mi sento molto solidale. Lo stesso colore, buonasera, salutiamo la signora. Bello questo giallo che ci porta, la inquadriamo, che ci porta un po' di allegria in studio. Io vado al 1997, tu sei a Sanremo, ti ritrovi tra i big, a casa di Luca, conquista il cuore del pubblico, ce l'abbiamo ancora nel cuore, eccola, qui tra un po' sarà difficile tenere il pubblico, perché la canterà. Beh, ricordi. Ecco, un anno prima tu eri già stata tra le nuove proposte e ti eri insomma conquistata un quinto posto con il brano Quando il cuore. Allora, quanto batteva il tuo cuore? Quell'anno, il 1997, con questo brano splendido, l'anno precedente, a chi pensavi mentre ti esibivi, da chi ti sei fatta da un gossip? Vuoi fare un gossip, vuoi sapere se sei innamorata? No, voglio entrare nel tuo cuore, voglio sapere che cosa provavi, chi guardavi, uno guarda sempre un po' nel pubblico, c'è un pensiero quando calca. Io guardavo le mie paure, le volevo scacciare via, a 18 anni, 19 anni è naturale che il cuore sia confuso, sia pieno di movimenti, di emozioni, di sturm und rang, quella tempesta, impeto, ma fondamentalmente guardavo al fatto che pian pianino, studiando, provandoci dal paesino, era arrivata passetto dopo passetto in Liguria, quindi dalla Sicilia alla Liguria avevo tanta paura. I tuoi erano il pubblico? Di perdere la voce soprattutto. I miei mi hanno seguito finché hanno potuto, poi partire con me significava comunque sostenere anche delle spese ogni volta, quindi quando ho fatto 18 anni hanno detto adesso devi farcela da sola. Erano davanti al televisore. Ed erano a casa davanti al televisore. Senti, riennodiamo questo nastro e arriviamo alla bambina, qui spieghiamo il senso di recuperare, ritrovare, riacchiappare la voce, abbiamo detto. Hai 8 anni, sei una bambina che è cresciuta in provincia di Siracusa, una bambina che parla poco, forse perché sulle spalle porta un peso molto grande, apre un cassetto, trova un registratore, dentro il registratore ci sono due voci, una è la tua, l'altra di Laura. Chi è Laura? E che cosa dice Laura? Facciamo veramente un passo indietro. Io a un certo punto della mia vita perdo questa sorella che ho conosciuto ma avevo soltanto un anno e mezzo. A 5 anni apro questo cassetto completamente silenzioso, non parlavo più, quindi una bambina silenziosa, perché questo trauma mi aveva bloccato le parole in bocca, probabilmente io me la sono spiegata così. apro questo cassetto e tiro fuori questo mangianastri, premo play e sento la voce di Laura. Quindi intanto capisco che questa sorella di cui tutti parlano è esistita, quindi me la vedo davanti agli occhi e i suoni mi ricordano molto di più di quello che i ricordi di una bambina possano evocare. E poi sento che io le rispondo a questa sorella che parla con me, che gioca col Pinocchio, che fa le traspusioni alla bambola, perché i giochi di Laura erano i laccio emostatici, le puntù, giocava con quello che aveva, sì, che erano i suoi giochi, erano quelli. E quindi mi trovo a risentire una voce, a reimparare che avevo questa voce per miracolo, perché se non avessi mai sentito la voce di mia sorella e la mia non avrei mai riappreso quell'esistenza vocale. E l'ho tirata fuori piano piano negli anni del tutto, anche se un anno dopo quella scoperta riesco a dire il primo giorno di scuola alla mia madre, lasciandole la mano, le dico ciao mamma. E lei si mette a piangere perché ritrova sua figlia, ritrova la voce di sua figlia, per lei ormai perduta, quindi nuovo lutto per mia madre, per fortuna superato. E il bidello si mette a ridere, dice signora su via, che sarà mai, sta portando la bambina a scuola, quale genitore, non si emoziona, però non pianga così. Senza sapere tutto quello che c'era dietro questo pianto di mamma. Senza sapere che quel ciao era tutto. Mamma, mamma Maria Carmela, che insieme a tuo papà Vincenzo, giovanissimi, peraltro tutte e due, tuo papà era poco più che ventenne, si trovano a fronteggiare questo dolore immenso, perché insomma tua mamma addirittura, mentre scopre di aspettare te, scopre anche che forse non ci sono dei rimedi per la leucemia di tua sorella, di Laura. Sì, scopre che certamente la leucemia mieloite di Laura acuta non avrebbe avuto esiti felici. E quindi per un attimo dice, ma io come faccio a portare avanti tre figli figli con una bambina che vive praticamente in ospedale, di febbri alte, di trasfusione e quant'altro. Quindi per un attimo dice al nostro medico di famiglia, che dobbiamo fare con questa bambina, questo figlio? E lui dice, ma sai Carmela, se una figlia te la toglierà, come sappiamo, magari una figlia te la dà, quindi arriva un altro dono, prenditelo. E mia madre, devo dire con grande coraggio, si ferma e dice, devo andare avanti. Donna peraltro di grande fede, oltre che tenace e coraggiosa, tutte queste cose tu le racconti mettendoti a nudo in un libro molto bello che si intitola La voce nel cassetto, che è stato edito da En Primatur. Racconti anche di aver forse siglato un misterioso silenzioso patto già quando eri nella pancia di tua mamma, quella che non avresti mai dato alcun problema, anzi semmai i problemi gliele avresti risolti. Così questa bambina piccola che tace, perde la voce quando muore la sorella, poi però è una bambina molto attiva, una bambina che a nove anni cucina per tutta la famiglia. È una bambina coraggiosa. Io dovevo aiutarla mia madre, non potevo essere la figlia da accudire, la figlia comunque che dal nascere, da quando viene concepita in poi pone il problema di esistere, no? Perché mamma aveva un impegno, un gravame maggiore, no? E quindi dovevo essere proprio una figlia ligia, nella mia testa, anche nella vita uterina io sentivo questo, quindi mai un calcetto, mai una nausea, nasci e nessuno se ne deve accorgere, nasci quasi nel silenzio, no? Quindi solo così potrai nascere figlia mia, se tu non mi darai problemi, ma questo lei non me l'ha mai detto, io l'ho percepito nella mia vita prenatale. E poi così è stato sempre, di fatto ho cercato sempre di essere una spalla per mia madre, senza dirlo, ma facendo, perché quando tua madre va al lavoro e tu comunque esci da scuola, rifai i letti, ti metti a cucinare, aspetti tuo padre e tuo fratello che tornino, già la casa vive e quando la casa vive una madre si sente sostenuta, no? Questi bambini hanno sostenuto molto, perché insomma immaginate i genitori che per le cure della sorellina si devono spostare da un ospedale all'altro, quindi portare i bambini dai nonni e poi il dopo, il dopo che è così pesante, insomma, in cui loro si sono adoperati per alleviare anche, insomma, i genitori. In una casa in cui poi le spese sono state tante, i sacrifici tantissimi, ritorniamo a quel cassetto, tu ritrovi la tua voce, è determinata, decidi, insomma, che vuoi portarla lontano, farla risuonare questa voce. A 14 anni, qui abbiamo fatto un altro salto, fa una tappa per la tua città il karaoke di Fiorello. E tu? Lì è stato proprio la voce divina del Signore che mi ha preso dal collo e mi ha detto vatti a scrivere a sto provino, vai, esci da casa, vai, provaci. Io cantavo, di fatto avevo le mie band, le mie seratine, i miei matrimoni, guadagnavo anche qualche soldino che mi aiutava anche a comprare delle piccole fesserie e così, ma mi ha detto vai, iscriviti a questo provino. Ma dal provino, di fatto, faccio questa puntata del karaoke a Palazzola Crede e vinco questa puntata. Quindi porta a casa sto televisorone colorato che era di freddo, un po' di freddo, con una giacca. Ero tutta convinta, capito? Ho detto, ah, metto la faccia in televisione, sto diventando una cantante. Ci credevo, era un po' il sogno nel cassetto, no? che si avverava piano piano e lì poi si è mosso un po' il destino, o chi ci crede, insomma, la forza divina delle cose che abbiamo intorno e che mi ha preso e mi ha detto, adesso ti mando un produttore che ti ha visto al karaoke, ti mando un produttore al paese, che ti prende e ti sbatte a Castrocaro. E così è stato, perché, insomma, a Castrocaro, il feste del Castrocaro è sempre, insomma, un po' quell'appuntamento che precede l'appuntamento di Sanremo. Guarda, è un caso più unico che raro, nel senso che l'ultimo anno che io ho fatto Castrocaro, che poi l'ho vinto, era anche l'ultimo anno che di diritto da regolamento il vincitore poteva accedere all'Arison. E quindi avevo, era l'ultima occasione mia per... E tu l'hai preso quel treno o l'hai preso in corsa? Eh, io non lo sapevo, l'ho preso, ho detto, vabbè, un altro sassolino da aggiungere. Però possiamo dire, signora, che tu in realtà su quel treno c'eri già salita, ma forse non lo sapevi, perché piccolina annotavi nel tuo diario personale, a 18 anni sarò sul palco di Sanremo. Guarda, detta così sembra una stratega spietata. No, sembra una sognatrice. I sogni, i sogni che io auguro ai miei figli, a tutti i giovani di avere, cioè di inseguire un po' il riscatto, un po' il dire il destino mi vorrebbe far essere questo, ma io mi impegnerò per essere di più, per essere altro. Quindi la ricerca del miglioramento della propria situazione e posizione che in realtà dà speranze e sogni a chiunque, a chi anche nasce come me in un paese lontano, comunque da una famiglia umilissima, no? Quindi chiunque può giocarsi una chance nella vita. Occorre crederci. E tu i talenti, i tuoi talenti li hai messi in gioco. Quante volte sei stata a Sanremo, Silvia? Dunque, compreso Sanremo giovani, cinque. Cinque volte? Pensate, questa giovane donna è stata cinque volte a Sanremo. Giovane, non direi. Beh, io direi di sì. Nel 1998 ci torni con un brano che si intitolava Pathos, dopo un viaggio che avevi fatto in Tibet. E io sono curiosa di capire cosa, insomma, appunto, una giovanissima, qui giovane, allora giovanissima, donna cercava in Tibet e che cosa ha trovato e poi ha messo dentro la musica. Allora, le stiamo rientrando, appunto. Quindi il senso dell'esotismo, il senso delle cose lontane, che ti riportano però a quelle vicine, perché se noi non andiamo fuori da noi stessi, non riusciamo a vedere praticamente quello che siamo nel nostro quotidiano, ad apprezzare anche la nostra vita, no? Quindi allontanarsi da sé per riacquistare se stessi nella vicinanza. L'immagine più bella che ti sei portata dal Tibet a un altro mondo? L'aria. L'aria che si respirava lì, che ahimè non si respira più tanto nel nostro paese. Ma anche aria mentale. Anche aria mentale. Sì, Sicilia sì, ma ti ripeto, sono momenti storici del nostro paese. Non devo stare qui a fare politica, a raccontare cosa sta avvenendo, ma è un momento in cui bisogna avere molta tenuta. E guardare oltre. E guardare oltre, sì. Sperare che vada meglio. Non ci crediamo. Arriva anche la TV, arriva il gran ballo delle debuttanti, accanto a Pitu Baudo. Accidenti, sei proprio preparatissima. E qui abbiamo anche una redazione che scava tra le pieghe del passato i nostri occhi. Tanto, ringrazio. I viaggi nei luoghi del sacro per Rai 3. Insomma, questi due anni sono due anni importanti, ma lo sono stati un po' tutti, a partire da quel cassetto, ma anche prima. Ritorno su un concetto che tu hai prima lanciato, con molta generosità, devo molto ai miei, perché non è facile, oggi tu lo puoi dire anche da madre, lasciare andare i figli e dire, segui i tuoi sogni, sii disposto anche a pagare il prezzo. Loro l'hanno fatto, insomma, hanno rinunciato ad averti accanto in Sicilia. Sì, sì, è sempre stata una forma mentis dei miei genitori, questo della liberalità, agisci, sentiti di fare liberamente quello che hai dentro, mettilo in atto, no? Perché i figli devono sbagliare. Dallo sbaglio, dalla caduta, ci si rialza più forti. E tutte le volte che noi genitori evitiamo quella caduta, i nostri figli falliranno due volte. E allora i miei genitori mi hanno non spinta, però hanno aperto la porta. E questa gabbia era aperta, quindi l'uccellino poteva volare o restare al sicuro nel suo nido. E la scelta quindi è stata libera. Quindi nel bene e nel male i miei genitori hanno permesso. E insomma, qui c'è un debito di gratitudine. Tra il penultimo tuo album e l'ultimo del luglio scorso, adesso ci arriveremo, c'è una pausa importante che ti sei concessa come un dono. E soprattutto c'è l'arrivo di due ragazze magnifiche. Già, lo puoi dire ragazze, sono alte, non so più di me. Ecco, Sofia ha 12 anni, è coetanea della mia. Ludovica ne ha 10, loro 9, sono la cosa più importante. Il tempo ha cambiato valore? Il tempo loro, dici, la loro esistenza. Il tuo tempo, nel averle accanto, nel vederle crescere. Tutto è ridimensionato, ma lo era già prima. Io volevo che si ridimensionasse la mia vita per lasciare spazio a dei figli. Ho detto proprio fermi tutti, facciamo le cose anche quelle che restano, le cose concrete. Non che un figlio debba diventare la tua concretezza. E chi non ce l'ha non è concreto, non voglio dire questo. Però nella mia esistenza si completava un ragionamento, un ciclo, un percorso avendo questa parte davanti a me. Un percorso che i miei figli avrebbero aperto per se stessi. E così è, perché tu sei una mamma molto presente. Io sono curiosa perché so cosa dice la mia dei capelli corti. Che ti dicono le tue figlie dei capelli cortissimi? Quando me li faccio crescere un pochino mi dicono che ho i prezzemoli. Non si capisce, quindi io ormai prevengo il male e li lascio corti. Ma mi criticano in molte altre cose, non sono i capelli il problema. Sappiamo, sappiamo. Insomma è un gesto di coraggio, di molta consapevolezza quello di darsi anche una pausa di respiro per essere e godersi l'essere mamma. Tra l'altro i tuoi fan ti sono sempre stati accanto, dei discografici ti sei preoccupata meno. Però poi li hai presi di sorpresa perché nel luglio scorso arriva un album, 23, che a me sembra suona come un inno alla vita, considerata l'importanza che quel numero ha nella tua. Nella mia vita suona come tutto, perché nasce tutto un po' da questo numero magico, considerato anche il fatto che il Salmo 23 è un Salmo che ti dice delle cose molto importanti, molto profonde, in cui credo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se tu hai una guida spirituale, mentale, nel cuore, vai spedito perché ti affidi. Io mi sono affidata anche a questo numero perché è la mia famiglia, perché è il mio marito, perché è la mia realtà concreta fuori dagli studi, fuori dal concerto, fuori dalla musica, è quello. E quello l'ho portato invece poi nella musica. Ho fatto il contrario, non ho subito la musica, ma l'ho ricreata dalla mia realtà. Fiducia e amore sono poi i due sentimenti che si collegano. Siciliana però, anche romana, l'accento siciliano ha un po' ceduto il passo a quello romano. Dov'è la tua casa Silvia? La mia casa è sempre a Palazzo La Creide, in provincia di Siracusa e sarà sempre lì. Ho un marito romano, quindi naturalmente sposi una persona che è di un'altra città, evidentemente sposi anche dove lui vive. Io abitavo per la verità già qui a Roma da prima, però non me ne andrei mai più. Insomma, è naturale che siamo qui, le mie figlie crescono qui, studiano qui. Però la Sicilia è la mia poesia. Cioè, quando io penso al guerretiro, quando io penso al ricreare qualcosa di me, vedo la Sicilia. Vedo quello. Senti, oggi che sei mamma, che hai le tue figlie accanto, hai fatto anche tanta strada, sei cambiata anche. Tanta strada. Tanta ne dovrai fare, ma insomma, tanta ne hai percorsa. Oggi quanto e in che modo pensi a tua sorella Laura, che insomma accanto alle tue figlie non è potuta stare? È il mio angelo. E quando tu dici gli angeli, che cosa sono questi angeli che non vediamo nei film, che li rivestono di bianco? Non è così. È una presenza immateriale, spirituale, in cui noi ci affidiamo, a cui noi crediamo, e che crea sempre delle coincidenze, anche creando dei piccoli fastidi, che ti fanno però riflettere, che lì domani mattina ti portano a pensare alla cosa giusta e alla fine approdi a quello che stavi cercando. Quello è l'angelo. È una spinta, è una persona che ti sta dietro, che è immateriale di fatto. Questa è mia sorella per me. Allora Silvia, noi terminiamo sempre le interviste qua chiedendo ai nostri ospiti, così rendendo un omaggio quelle parole belle di Papa Francesco, ricopriamo il grazie, il permesso, scusa. Io ho amato tantissimo il Papa del mio, cioè sono nata io con naturalmente Papa Wojtyla nel 78 e lui è morto il giorno del mio compleanno, il 2 aprile del 2005. Però questo Papa l'ha veramente preso a braccetto e vanno di pari passo per me nel mio cuore. Perché è veramente una persona che sta riportando la Chiesa ancora di più fuori e nei cuori delle persone. Ecco Silvia, con questo amore per questo Papa e per l'eredità che ha raccolto, grazie tu oggi a chi lo dici? A loro, a mia madre, a mio padre, alle persone, la mia famiglia in primis ovviamente, però alle persone. Quanto ti dà lo sguardo di una persona oggi? Che nessuno più guarda nessuno, nessuno più ascolta nessuno. Qui c'è un uditorio di persone che mi stanno ascoltando. Io sono grata a questo perché potrei essere da un'altra parte. Perché io devo essere Silvia Salemi, una cantante, la mamma, la moglie, chi l'ha detto? Potrei essere una bambina africana con la pancia gonfia, senza niente, senza istruzione. Allora, signori, la gratitudine. Grati, sempre grati e ti riesce facile dire scusa e a chi lo dici oggi? Io amo chiedere scusa perché quando chiedi scusa ti metti in sintonia con l'altro, ammettendo una colpa, ammettendo un errore. L'umiltà, l'umiltà ti porta sempre nel cuore di quella persona che per un attimo tu hai irrigidito. Quindi anche chiedere scusa è un gesto di crescita, non dico di grandezza perché non ce lo diciamo da soli, ma sicuramente di crescita piano piano del proprio spirito. Dico scusa, quando lo devo dire lo dico, sempre. Sempre pronte allora anche a dire scusa. Grazie Silvia Salemi, grazie davvero, ricordo la voce nel cassetto, il libro in cui la sua storia l'ha raccontata. Grazie ancora Massimiliano. Eccoci, eccoci, ma che bella storia quella di Silvia. Grazie, hai sentito? Che straordinaria storia. Grazie, grazie. A casa di Luca tutto a posto. Sì, sì, ci siamo già detti in sala trucco. È la mia preoccupazione maggiore. Ha provato a cantarla, l'abbiamo bloccato. L'abbiamo intonata insieme. Oddio, povera Silvia. Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Io non ci confronto, eh. Meglio di no. Non mi confronto. Meglio di no. Grazie Silvia. Grazie a voi. Adesso portiamo pagina e scopriremo i santi della settimana insieme a Don Davide Volo. Tra poco qui siamo noi. Che bella.